Ciao a tutti e ben ritrovati! Allora siamo pronti, andiamo avanti con la masterclass di Excel. Oggi andremo a fare un approfondimento ulteriormente sulle formule tipo stringa. Praticamente nella scorsa lezione avevamo visto come fare il stringa estrae con catene eccetera. Oggi andremo a vedere come si fa a fare il trasporto di un dato che è posto in orizzontale e lo trasformeremo in una tabellina verticale. Quindi vedremo due tecniche. Vedremo una tecnica manuale che si fa proprio il trasponi con le opzioni di Excel e dopo scriveremo una formuletta che è una matrice e andremo a vedere come funziona la matrice e poi riporterà i dati sempre in automatico qualora noi andremo a modificare il set di origine. Allora come sempre andiamo nel file di benvenuto, quindi menu file, andiamo sulla voce nuovo e qui apriamo il file di benvenuto. Ovviamente se non ce l'avete lo trovate in descrizione così lo potrete scaricare per fare gli esercizi se ne avete bisogno. Qui andiamo sul tab trasporre e qui praticamente come sempre abbiamo la descrizione di Microsoft sulla sinistra e sotto degli articoli di approfondimento per andare un po' più in analisi e vedere qualche esempio aggiuntivo. Allora partiamo da quello manuale. Vedete qui ho una bella, facciamo anche un po' di zoom, ho una tabellina che è posta in orizzontale, quindi ho le mie colonne che sono poste articolo nel primo record, importo sul secondo record. Poi qui ho le mie descrizioni dell'articolo e le quantità, ok? Quindi noi vogliamo prendere questa informazione e farla diventare come questa, vedete voglio avere l'articolo qui e l'importo qui e le informazioni praticamente verticalizzate, ok? Questa è una cosa che può servire avere il dato verticalizzato perché magari in orizzontale non vi va bene oppure avete tante informazioni e andate troppo in là e col verticale magari andate meglio. Ovviamente questa cosa qua si può fare anche con le classiche pivot, però al momento non le abbiamo ancora trattate, le vedremo più avanti nel corso, quindi impariamo a fare questo tipo di attività che spesso può essere utile. Allora cancello il set. La prima tecnica manuale appunto è selezionare il nostro perimetro che noi vogliamo andare a trasportare in questo set che c'è qua giù, ok? Quindi noi lo selezioniamo e premiamo il tasto CTRL CTRL più C. Così facciamo CTRL C che è appunto il copia, ma possiamo anche fare menu home e premere il tasto copia e la stessa cosa vedete anche qua ve lo suggerisce. Ok, fatto il copia noi abbiamo messo in memoria questi dati per trasportarli, quindi per incollarli, quando noi li incolliamo appunto li trasportiamo da qualche altra parte, quindi se io andassi qua e facessi CTRL V, ok, trasporterei il set esattamente come era prima. Ma se io mi sposto in questa cella e faccio tasto destro e faccio colla in colla speciale, ok, si apre questo pannellino qua e praticamente qui posso fare un'incolla dei miei dati in un modo customizzato. Ad esempio io posso fare che trasporto tutto piuttosto che trasporto solo le formule perché magari dentro una specifica cella ho una formula, ma io non voglio trasportare, cioè voglio trasportare solo la formula, ma non voglio magari trasportare il colore di quella formula perché magari è colorata, no? Quindi se io faccio solo formula e trasporto solo il contenuto della formula. Valori invece, se c'è una formula ad esempio, trasporto solo il risultato di quella formula, i formati ad esempio trasporto il colore di quella cella. Dopo le proviamo appena finisco questo. Comunque in fondo c'è appunto noi qui, in questo caso lasciamo la voce tutto e se andiamo in basso troviamo la flag trasponi. Se noi premiamo qui e poi andiamo a dare un bel touch sull'ok, ok, ecco che noi abbiamo trasportato il dato esattamente come volavamo. Qui l'esperto suggerisce ctrl alt v, se noi premiamo, ci mettiamo sulla prima cella, facciamo ctrl alt v, si apre lo stesso identico pannellino, è una scorciatoia, quindi anche qua facciamo trasponi e ecco che abbiamo tirato giù l'informazione. Quello che vi dicevo prima era che se vedete io faccio questa formula che è uguale a questa, ok, questa è una formuletta, no? Quindi se io faccio ctrl c, poi vado qui e faccio ctrl v, ok, io mi, facciamo che lo caloriamo anche di giallo, ok, se io faccio ctrl c, ctrl v, trasporto tutto, ok, vedete lui in modo intelligente, ok, lo facciamo magari, facciamo qua sotto, lo faccio qua, vedete, lui ha trasportato la formula in modo intelligente, quindi anche la posizione del riferimento ha cambiato perché non ho usato i valori assoluti che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Però ipotizziamo che io non voglio trasportare il colore, come vi dicevo prima, ctrl c, ok, posso fare tasto destro e qui mi compare anche i più usati, quindi se faccio un, due, tre, io trasporto solo i valori, quindi vedete che qui la formula non c'è più, non c'è nemmeno il colore, ok, trasporto solo il valore contenuto nella formula, se faccio tasto destro e faccio fx, trasporto esclusivamente la formula, vedete che qui c'è la formula, ma non c'è il colore. Se invece voglio trasportare solo il formato, ok, eccolo qua, trasportiamo solo la formatazione, però la formula non si è trasportata, ok, quindi l'incolla speciale è una cosa veramente molto interessante. Ci sono anche altre opzioni, però magari le vediamo più avanti nel corso. Comunque sì, questo è il trasponi fatto in modo manuale, quindi ricordo copiamo il nostro set, tasto destro, incolla speciale e mettiamo trasponi. Adesso andiamo a vedere come si fa a farlo in automatico, in modo che se poi noi cambiamo i valori del nostro set, sotto cambieranno anche le informazioni. Allora vediamo che Microsoft cosa dice? Ci dice di utilizzare matr.trasporta, quindi crea una matrice e trasporta questo perimetro di dati, quindi se noi andiamo qua e ci scriviamo matr, ok, vedete che ci dà un po' di matrici, queste sono le matrici che possiamo andare a creare, e oggi andiamo a vedere la matrice e trasporta, quindi questa, converte un intervallo verticale in un intervallo orizzontale, ok, quindi facciamo matrice e trasporta, facciamo ad esempio un doppio clic oppure mentre la stiamo scrivendo, vedete lui la trova, noi premiamo il tasto tab e me l'autocompila in automatico, mi scrive il testo. Perfetto, adesso cosa facciamo? Andiamo a dirgli praticamente il perimetro dei dati che noi vogliamo andare a trasportare. Ecco qua, quando noi chiudiamo la tonda e premiamo invio, ok, io ho premuto praticamente sulla D40, ho costruito la formula qui, se premio invio lui autocostruisce la matrice in automatico, difatti se noi osserviamo, vediamo che io adesso sono appuntato sulla cella di articolo, se vado su vedo che è in eretto, ok, questa è la cella dove c'è la formula che pilota tutto. Se io qui invece premo sotto, ok, vedete che qui c'è praticamente la formula in grigetto chiaro, perché se clicco, vedete, non la posso modificare, quindi quello che mi pilota la matrice in realtà è quello che c'è qua su. Se io qui faccio così e gli dico, guarda, porta questo, ok, vedete che va tutto in errore, perché ci ho messo una formula alla matrice e non capisce più niente, perché trova già, vedete, lui mi fa vedere, non so se si vede, se io mi sposto sotto e poi mi sposto sopra, vedete che compare un'area tratteggiata, quindi l'area tratteggiata deve sempre essere libera da altre formule, da altri contenuti, vedete, se io scrivo anche un testo, ok, lui va in tilt, quindi quando ho fatto questo tipo di attività con la matrice, assicuratevi che l'area in cui dopo voi dovrete andare per il trasporto sia effettivamente libera, altrimenti va in errore. Comunque sia, così facendo, ok, scrivendo la formula in questo modo, lui calcola l'area in base al set che gli avete dato, lui la calcola in automatico e la trasporta fin dove trova i dati, quindi se io ho messo qua, adesso se ad esempio qui ci metto 50, vedete che sotto appunto cambia, ci metto il 200, sotto cambiano le informazioni. Vediamo altre due tecniche, allora se io vado qua e faccio uguale, ci scrivo sempre matter.trasporta, premo tab, poi mi prendo sempre il mio perimetro, ok, faccio, chiudo la tonda e questa volta però premo ctrl shift invio. Ecco, se io premo ctrl shift invio, vedete che non ha più trasportato l'intero set. Mi ha praticamente messo delle parentesi graffa, ok, e quindi queste sono praticamente delle parentesi, se io clicco poi non le posso, non le posso toccare perché le metto in automatico, si fa proprio con ctrl shift invio questa tecnica qua. e significa che io vado ad applicare il risultato della mia matrice, pur avendo anche un perimetro più esteso, solo sul set di celle che io sono andato a selezionare. Difatti se io torno qua, mi prendo la formuletta, ok, mi seleziono queste sei celle qua, mi metto la formula e faccio ctrl shift invio, vedete che io faccio il trasporto solo delle prime tre colonne, delle prime due righe e delle prime tre colonne, ok, invece sotto non trasporta nulla e se io vado a vedere che cosa ha scritto nella formula, vedete che sono in neretto tutte quante, lui scrive sempre la stessa cosa dappertutto, è sempre in neretto, se io clicco vedete che la posso anche andare a modificare, ok. Quindi diciamo che se io premo invio, lo fa in automatico, mi rileva il set intero, in automatico in base a quello che ho selezionato. Se invece faccio ctrl shift invio, lo fa solo sui record che io sono andato a selezionare. Anche in questo caso se cambio i valori, ovviamente è tutto in automatico, così ho fatto il trasporto. Questo è un modo di girare i dati che posso farlo con le formule piuttosto che in manuale. Spesso mi capita personalmente di avere dei dati in questo modo qua e manualmente vado a crearmi il set, perché ho bisogno di analizzarlo così o di vedere certe cose. Poi anche questa cosa qua di mettere in orizzontale, in verticale, si fa tranquillamente anche con le pivot, però è una cosa che andremo ad approfondire più avanti nel corso. Bene, direi che con questa lezione è tutto. Come sempre, se è stata di vostro gradimento, lasciate un bel like al video, magari iscrivetevi se non siete ancora iscritti, così mi aiuterete a sostenere il canale, a farlo crescere, condividete le risorse nei social se avete il piacere di farlo. Vi ringrazio molto dell'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao a tutti!